Domenica 21 luglio, Atena Lucana ha ospitato una delle celebrazioni festive più importanti dell'India, la Teehan, una festa indiana che celebra la forza delle donne e tantissime sono state le donne, le ragazze e le bambine che hanno partecipato alla festa, provenienti non solo dalla comunità indiana valdanese ma anche dalla vicina basilicata. Vestite dei loro sari più belli, le tantissime donne presenti hanno brillato e fatto brillare di colori vivaci una domenica scintillante, danzando sulle note delle musiche tradizionali indiane e rifocillandosi con il tipico cibo. La Teehan è una delle feste più importanti per la comunità indiana, essa riavoca una tradizione della regione del Punjab che si celebra durante la stagione dei monzoni. Questo evento rappresentava l'occasione per le donne che si sposavano in paesi lontani di tornare a casa e passare un po' di tempo con la propria famiglia. Questa festa che stiamo facendo oggi si chiama Teehan e questa festa le ragazze indiane sarebbero nuovi sposati, tornano a casa di genitori e festeggiano insieme le ragazze amiche sue, così loro divertono, mangiano, giocano insieme. Questo è stato un piccolo tentativo mio per dare un po' di gioia, che la vita è piena di noia, così dimentichiamo tutta la noia, divertiamo un po'. Ci sono pure di potenza, sono pure Balisi, Battipalia, Atena, pure tutto vallo, stiamo cercando di dare gioia a tutto il mondo, questo è il primo tentativo mio, grazie. 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 Grazie.